Se vale la pena di implementarlo, allora vale anche la pena di misurarlo, almeno così dicono i Nezi e secondo me è una frase molto intelligente. Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere che cos'è la seconda via di DevOps, quella dedicata al feedback. Con la prima via di DevOps abbiamo visto quali sono le pratiche e i metodi da tenere in considerazione per ridurre gli sprechi e aumentare l'efficienza dei nostri processi guardando avanti oppure guardando da sinistra verso a destra, cioè mentre attraversiamo il nostro flusso di creazione del valore. Di solito si pensa alla creazione di feedback come raccogliere dati nei nostri ambienti in produzione per sapere come vanno i nostri software e come lo stato di salute del nostro sistema. Ma non è solo questo, la seconda via di DevOps ci invita ad amplificare i feedback dove esistono o crearne dove non ce ne sono anche lungo tutto il nostro processo. Quindi non solo dal software in produzione ma anche per quanto riguarda gli ambienti precedenti e anche tutto quello che riguarda il nostro processo di creazione del valore per il nostro cliente. Per poter avere dei feedback è fondamentale quindi implementare della telemetria. Abbiamo più o meno tutti quanti una definizione di telemetria in testa però andiamo a vedere una definizione ben specifica. Quindi per telemetria in ambito di comunicazione si intende un processo di comunicazione automatizzato che trasmette misure e altri dati raccolti in punti remoti e trasmessi a dispositivi di raccolta per il monitoraggio. Quindi abbiamo dei device, un qualcosa, delle scatolette remote sparse in giro lontane da noi che trasmettono dati a un punto di raccolta centralizzato. Possiamo immaginarlo potrebbe essere un server, un servizio all'interno di un cloud e questi dati vengono raccolti il cui obiettivo è appunto quello di essere poi analizzati e procedere a un monitoraggio strutturato. Una volta che abbiamo quindi creato la telemetria vediamo quali sono le altre pratiche da implementare per seguire la seconda via del DevOps. Abbiamo quindi, l'abbiamo creata questa telemetria, dobbiamo poi andare ad analizzarla perché crearla, raccogliere e basta non ce ne facciamo nulla. Quindi dobbiamo analizzarla per capire come stanno andando le cose. Sono generico perché ci si può spingere a fare telemetria, analizzare telemetria veramente per tanti ambiti. Da metriche di business, quindi per esempio in un classico e-commerce sapere quanti check-out del carrello sto facendo in un dato periodo di tempo, a telemetria sugli stati di salute del mio utilizzo della CPU, della RAM, della banda, del mio data center e così via. Di quanto tempo ci mettono le pipeline a compilare e a testare la mia soluzione software, di quanto tempo ci metto a deployare in produzione e così via. Un'altra cosa su cui dobbiamo investire secondo la seconda via è quello di rilasci sicuri. Quindi implementare dei feedback il più possibile per avere dei rilasci non big bang ma procedere guidati dalla telemetria in maniera tale che ci faccia sapere se il nuovo aggiornamento, la nuova versione della nostra soluzione sta generando problemi o sta effettivamente andando tutto bene. Questo in combinata con delle pratiche della prima via, delle tecniche di deployment e automazione come per esempio potrebbe essere blue green o delle canari o strategia ring e così via. La telemetria è fondamentale perché ci permette di sapere come sta andando da tutti i punti di vista di salute del sistema e magari anche di user experience. In questo caso abbiamo quindi anche la possibilità di fare test delle ipotesi e quindi dire tramite l'adozione di quelle che potrebbero essere feature flag che ci abilitano i testing AB e così via per dire vediamo se questa feature pensata in questo modo è effettivamente meglio rispetto a un campione di controllo e quindi adottare quelle che sono le tecniche di validazione con la b-testing. Infine tutto questo va ad incrementare la qualità del lavoro perché se noi abbiamo un feedback prima di quello che stiamo facendo e non semplicemente quando qualcosa si rompe in produzione abbiamo meno urgenze, meno problemi da rincorrere che possono invece essere catturati, raccolti, analizzati ben prima magari che se ne accorga il cliente. Ecco che quindi andiamo a ridurre gli atti eroici, andiamo a ridurre le chiamate di notte o gli interventi durante il weekend che degradano la qualità del lavoro, del personale e che quindi con tutti gli effetti annessi e connessi. Trattare tutte le intere pratiche della seconda via di DevOps in un video di pochi minuti sarebbe impossibile. Mi voglio però concentrare su quella che è la creazione della telemetria che è il mattone fondante su cui si basa la seconda via di DevOps. Allora la creazione della telemetria la dobbiamo fare perché sappiamo benissimo che in produzione le cose vanno storte. Nei sistemi complessi nessuno sa tutto dall'inizio alla fine e nessuno conosce completamente le interazioni tra le varie parti del sistema. A volte un intervento in una parte ha conseguenze in una parte distante per così dire che non era minimamente immaginabile. Quindi sappiamo che le cose vanno storte. Spesso quando le cose vanno storte abbiamo il problema che ci mancano i dati, non abbiamo dati a sufficienza o è difficile recuperarli e correlarli tra di loro per sapere e ricostruire che cosa sta succedendo. Classica domanda, era un esempio di rete, è un problema di rete o è un problema applicativo? Allora di solito se lato operation riavviando tutti i server la cosa non si sistema allora la colpa è dei developer. Questa è una delle pratiche peggiori che ci possano essere però sappiamo quanto è anche diffusa perché se io comincio a riavviare a destra e a sinistra nella speranza che le cose si risolvano, perdo possibilità di fare diagnosi e comunque non sono risalito alla causa del problema. Tra l'altro ci sono degli studi che dimostrano come i team con i minor downtime sono quelli che riavviano di meno i server perché sono in grado di fare delle diagnosi accurate, intervenire sul problema senza necessariamente riavviare e andare per l'opzione nucleare. Ma dove la creiamo la telemetria? La telemetria la possiamo creare sostanzialmente in tre punti, all'interno delle nostre applicazioni, la creiamo negli ambienti ma la creiamo anche nelle pipeline, nei nostri processi. Quindi a livello applicativo andiamo a raccogliere il numero chiamato HTTP che la mia applicazione sta ricevendo, il numero di errori 400, magari il numero di errori 500, della famiglia 500, ma andiamo anche a raccogliere dall'ambiente, come dicevamo prima, stato di utilizzo della CPU, memoria, banda, disco e così via. Abbiamo anche, andiamo a raccogliere telemetria dalle nostre pipeline per sapere come stanno andando i nostri processi di deployment e i nostri processi di ingegneria del software e di application life cycle management in generale. Monitoraggio e telemetria non sono dei concetti nuovi nel mondo dell'informatica, si sono sempre fatti, solo che si sono sempre fatti magari in maniera separata e non pensando al processo dall'inizio alla fine, quindi magari in ambito esercizi o operation c'erano degli approcci con agent oppure a meno che raccolgono dei dati dall'ambiente, dalle virtual machine o dalle macchine fisiche e poi li mostrano in dashboard, mi viene in mente per esempio il buon vecchio PRTG. I developer invece hanno sempre utilizzato librerie di logging che scrivono tipicamente file di testo che sono molto pratici da scrivere ma magari difficili da consultare o da reperire, per esempio in un ambiente, ecco questo approccio in un ambiente cloud native è praticamente impossibile perché non ho l'accesso e la possibilità di scrivere e leggere dei file di testo in un ambiente full cloud, cloud native dove sì non ho accesso a tutto l'hardware e virtual machine che ci sono sotto. ecco che quindi dobbiamo adottare dei concetti di monitoring moderno dove sostanzialmente gli strati che abbiamo visto prima, il sistema operativo, l'applicazione e così via sparano degli eventi, potrebbe essere questo per esempio l'approccio adottato negli ambienti orchestrati tipo in Kubernetes o i container e così via, scrivono i log nelle standard error o negli standard output, vengono raccolti da degli agent o da dei sidecar container che gli sparano poi in destinazioni, in piattaforme di monitoraggio moderne dove i dati vengono aggregati tra di loro e anche magari correlati. E' importantissimo soprattutto nell'architettura e microservizi avere il correlation ID, cioè questo ID che attraversa tutti i passaggi, tutti i messaggi di una transazione di lunga durata che attraversa magari microservizi e che è in grado quindi di tramite questa possiamo ricostruire la storia e sapere quali sono state le chiamate che hanno composto la risposta finale per l'utente e magari dove ci siamo interrotti. Infine concludiamo con quelle che sono le best practice per la telemetria, cioè deve essere molto facile inserirla e recuperarla, cioè i developer devono scrivere pochissimo, quindi in una riga di codici noi dobbiamo essere in grado di emettere un dato in telemetria. Letale tutto quello che raccogliamo deve essere accessibile facilmente via API perché poi così possiamo farci delle integrazioni, delle dashboard che possiamo esporre in azienda in ottica di totale trasparenza e avere quindi dei sistemi di alerting che ci possano dire che è successo qualcosa sia in maniera reattiva ma sul mercato ci sono anche tante soluzioni che implementano degli algoritmi predittivi e quindi ci dicono guarda che potrebbe succedere qualcosa in base ai dati passati. La telemetria viene utile a tantissime persone, non solo ai developer o gli operation del team ma anche per esempio può essere pensata ed è utile a chi si occupa di auditing o security per capire eventualmente l'efficacia dei controlli che abbiamo in piedi o essere avere telemetria in ambito sicurezza, quindi per esempio il numero di login effettuati con successo, il logout effettuati in un certo periodo di tempo, quanti tentativi di logout in un certo periodo di tempo vanno invece, non hanno buon fine, vanno in errore perché magari potrebbe essere segnale che stiamo subendo degli attacchi, degli attacchi brute force. Per IPM invece viene buonissima la telemetria perché attaccata appunto a quelle che sono magari delle tematiche di utilizzo della user interface, della user experience o anche di monitoraggio di quanto una certa funzione viene utilizzata, riusciamo a capire se stiamo centrando gli obiettivi di business e il comportamento degli utenti. Per oggi con la seconda via di DevOps ci fermiamo qui, se da questo video hai imparato qualcosa o ti è piaciuto mi raccomando metti un mi piace o iscriviti al canale così sarai notificato sulle prossime uscite. Ciao! Grazie a tutti!